Qualcuno la chiama la guerra degli alberi, da un lato gli ambientalisti che protestano, chiedono di non procedere agli abbattimenti pianificati, dall'altro il comune che spiega il rischio di crolli a discapito dei cittadini. Ieri mattina è il nuovo caso, gli ambientalisti denunciano il taglio di alberi sani come errore grossolano rispetto alle carte da loro stessi prodotte. Poi hanno sbagliato il 130 che non doveva essere tagliato, in mezzo ci sono degli alberi, ma non ci sono vecchi aiuole, tronconi di alberi, quindi in questo caso è incontrovertibile l'errore madornale che ha fatto questa amministrazione. Noi consegneremo lo stricione di 10 metri disegnato con gli appelli dei cittadini al sindaco affinché fermi questo scempio. È irragionevole quello che stanno facendo, abbiamo dimostrato con i fatti che il comune non fa quello che fanno gli altri comuni. A rispondere oggi è il primo cittadino che ha appurato il lavoro svolto dai tecnici che, a scanso di equivoci, ieri hanno operato un nuovo sopralluogo, garantisce che le operazioni sono state tutte controllate e appurate. In via del santuario sono previsti 30 alberi da abbattere perché classificati di, e cioè pericolosi. Di questi 30 alberi, 3 sono caduti per cause naturali, il che evidentemente conferma la loro pericolosità. Un ulteriore albero si è reso necessario tagliarlo in quanto da segnalazioni dei nostri tecnici, e come chiaramente visibile anche con le fotografie che avete visto prima, nessun guerra contro le piante, nessun spirito iconoclasta, ma l'impegno di questa amministrazione a prendersi cura del verde urbano e di sostituire per ciascun albero abbattuto con due nuove piantumazioni.